La giornata decisiva è in martedì, perché martedì c'è la cabina di regia convocata a Roma, dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, dove ci saremo, credo che martedì sarà la giornata decisiva in cui si deve definire tutto. Noi ieri abbiamo portato al governo la nostra posizione, che siamo pronti con la massima concretezza, volontà, passione e determinazione. Per noi, con la collaborazione di tutte le istituzioni, le università possono essere un grandissimo risultato per Napoli, per la Campania e per il Paese. Quindi ci auguriamo che martedì tutte le istituzioni, nessuna esclusa, vadano in questa direzione. Quindi noi credo che martedì sarà la giornata decisiva per dare il via libera definitivo al countdown che ci porta poi a fare tutti i lavori. Dal punto di vista finanziario, come dì, il finanziamento è deciso, la destinazione pure... Non bastano le finanze, bisogna mettere insieme tutti. Martedì ci aggiorniamo. Non politico quindi? Bisogna mettere insieme tutti. Il tempo è poco, dobbiamo correre tutti. Se corriamo tutti velocemente e soprattutto senza nessun tipo di tentennamento, mandando determinati, leali, cooperando tutti, io penso che possiamo fare davvero un grande risultato. E siccome martedì è un aggiornato importante, perché il governo non ha mai avuto modo finora di incontrarci sulle università, quindi il tema, ho capito anche che insomma c'è sempre il tentativo, come dire, di raccontare delle cose che non corrispondono alla realtà. Quindi credo che martedì sia una giornata importante per fare chiarezza, perché noi ci siamo, se si parte subito ovviamente tutto insieme. Noi abbiamo messo in campo tutte le condizioni per fare un figurone, come città di Napoli, come paese, come regione, come impianti sportivi, come capacità di accoglienza, come sicurezza. Però chiaramente dobbiamo avere il via libera definitivo, che non c'è che dare la cabina di regia dell'università, che è martedì. Lei andrà personalmente? No, personalmente, sì. Si fa a Napoli con... No, a Roma, a Roma. Ah, andremo io a Uriccio, come comune di Napoli. Va bene, va bene.